Ciao, ho capito che bisogna fare chiarezza perché sennò qua non ne usciamo vivi. Ho fatto uno shot su Illich e molti hanno frainteso il discorso, diciamo, mi sono espresso benissimo. Anzi, in realtà la cosa adesso è ancora cambiata in positivo, quindi ne riparliamo, perché adesso Illich, l'offerta del Torino per Illich è stata pareggiata, o meglio, l'offerta del Marsiglia è stata pareggiata dal Torino, per cui adesso la cosa sta al giocatore. E il giocatore, per lo meno ovviamente di quello di soldi, poi Illich nel caso del Torino verrebbe subito da noi, sembra voglia venire al Toro, come vi avete anche commentato nell'altro Shorts. Prima però effettivamente l'offerta economica è molto più favorevole al Verona, adesso capiremo, stanno cambiando alcune cose, sarebbe un miracolo ancora più di tutto il casino che è successo con Miranciux l'estate. Questa è una roba addirittura oltre, una telenovela incredibile, questo vuol dire aver carico e bagnati. Però vabbè, vediamo cosa succederà e ci aggiorniamo magari anche nella giornata di domani per capire se ci sono delle novità. Sempre a vostra Toro, ciao ragazzi!